Stanare il dato sommerso di questi reati all'interno dei nuclei familiari, da dove quasi sempre provengono le violenze, è molto complicato. Che cosa si può fare? Forse le associazioni, gli insegnanti, le scuole possono arrivare prima delle istituzioni. Intanto bisogna salutare con grande soddisfazione e grande piacere questa sintesi fra pubblico e privato, fra l'associazionismo, il volontariato e l'attività istituzionale, l'attività pubblica, perché questi sono i momenti in cui si danno risposte concrete a quella ricerca di legalità anche all'interno delle famiglie, dove è sicuramente più difficile rompere il muro di omertà, perché è dettato da una serie di circostanze evidenti di carattere assolutamente personale, molto difficili da affrontare, perché c'è una famiglia, ci sono sentimenti, ci sono figli e quindi è molto difficile evidentemente per una donna che subisce violenze o maltrattamenti all'interno di un contesto familiare uscire e poter far valere i propri diritti. Però queste sono le occasioni, questi sono i luoghi fondamentali in cui si concilia l'interesse del singolo con l'interesse del bene comune. Vanno incoraggiate, vanno rafforzate e speriamo che da questa sala, da questi incontri, possano generare fattori sicuramente di maggiore legalità anche all'interno delle famiglie. Che percentuale abbiamo sui dati relativi alle denunce? Con riguardo alle denunce abbiamo circa un numero sicuramente sempre limitato rispetto a quello che è la realtà, però devo dire con un certo anche in modo confortante che negli ultimi anni l'attenzione è stata della procura, di chi mi ha preceduto, molto particolare, molto attenta su questa tematica e le denunzie sono in crescita. Le denunzie per maltrattamenti in famiglia o per reati connessi a vicende, a violenze o minacce all'interno del contesto familiare sono assolutamente in crescita rispetto a cinque anni fa. Vuol dire che la strada, la strada dell'informazione, della conoscenza, il superamento delle barriere, fra virgolette, mi sia consentito dire, dell'ignoranza o della connivenza, dettata da determinati fattori, sta per essere superata. Questo è molto molto importante, informare ha una funzione determinante perché da oggi le donne, le vittime, i minori di Niscemi sanno che qui c'è la disponibilità di un'aula per essere ascoltati.